Parliamo con David Urmi, un esordio del primo minuto con vittoria all'Eco, contro l'Eco, insomma una grande domenica per te. Per me è una grande domenica, una domenica bella per tutta la squadra, fare la prima titolare qui è ancora più difficile, però secondo me abbiamo fatto tutto in una grandissima prestazione e il risultato ci hai ripagato. Una tua prestazione diligente, hai fatto pochi errori, sei soddisfatto? Sì, soddisfatto, ho fatto pochi errori anche grazie all'aiuto dei miei compagni che per 90 minuti mi hanno aiutato e non mi hanno mai lasciato solo, quindi devo dire grazie a loro. Un pergo anche cinico davanti, insomma avete fatto due gol, magari due mesi fa bisognava creare dieci occasioni da gol per farne due. Sì, abbiamo creato queste due occasioni con Patrini che è stato bravo a realizzarle, fino a poco tempo fa dovevamo fare le dieci per fare un gol, adesso a furia di provare i risultati arrivengono, il lavoro paga. Paga anche per te, insomma sei sempre allenato coscienziosamente, sei stato chiamato in causa, hai fatto bene? Sì, sì, io non l'ho mai mollato, ho sempre creduto nel lavoro anche del mister in settimana, come tutti, come abbiamo fatto tutti e a furia di lavorare siamo riusciti a fare questo filone di risultati positivi. Cinque vittorie a fila, adesso cosa potrebbe arrivare per il pergo, cosa c'è nel futuro, avete un obiettivo? L'obiettivo è sicuramente andare in campo ogni domenica e vincere, sta a noi poi giocare il meglio possibile e se giocheremo come abbiamo giocato oggi vuol dire che stiamo facendo bene e le vittorie arriveranno.